Calabria al ballottaggio, i seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 23. Delicatissima la sfida di Crotone, dove Rosanna Barbieri, appoggiata dal PD, lotterà fino all'ultimo voto con Ugo Pugliese, candidato degli Sculco. Rasa al suolo la bidonville di San Ferdinando, lo prevede il piano operativo discusso in prefettura Reggio, 450 mila euro la cifra messa a disposizione dal Ministero dell'Interno e che prevede anche interventi contro il caporalato, intanto la salma del giovane immigrato del Mali rimasto ucciso nella Tendopoli verrà presto rimpatriata in Mali. Quella Calabria non balneabile, divieti in quasi tutte le province, la geografia tracciata dal Ministero della Salute non perdona nulla alla Calabria, le aree più critiche nel Cosentino e al Reggio, male anche nel Catanzarese e nel Vibonese. Tutto ciò nonostante la Regione abbia stanziato 6 milioni e mezzo di euro per la depurazione e intanto il direttore nazionale di Lega Ambiente accusa l'ARPACAL di essere ultimo al Sud per monitoraggi. Gli intoccabili a Corleone e a Castelvetrano, la truppo del programma della C condotto dal massmediologo Klaus Davi nei luoghi di Matteo Messina Denaro. L'ultima puntata della prima serie del docu-reality andrà in onda domani sera, indagandone rapporti tra Andrangheta e mafia. Buona domenica da Tiziana Bagnato e da tutta la redazione della CIB, ritrovati ad una nuova edizione della nostra informazione che non può che dedicare gran parte di questa al ballottaggio. Si torna infatti al voto in quei comuni che non sono riusciti lo scorso 5 giugno a scegliere il loro primo cittadino. In particolare tornano alle urne un capoluogo di provincia, Crotone e due centri con oltre i 15 mila abitanti, si tratta di Rossano e di Ciro Marina. Alle 12 aveva votato circa il 15% degli eventi diritto al voto, ma vediamo il punto in questo servizio. Si ritorna alle urne 15 giorni dopo, per il ballottaggio che farà calare il sipario sulla tornata amministrativa, determinando vinti e vincitori. In Calabria, come in tutta Italia, seggi aperti dalle 7 alle 23. Tre i centri ancora in bilico, Crotone, unico capoluogo di provincia, oltre ai comuni di Rossano e Ciro Marina. Nella città pitagorica la sfida sarà decisa all'ultimo voto. Al primo turno, Rosanna Barbieri, la candidata del PD, ha ottenuto il 29,2%, mentre Ugo Pugliese, appoggiato da Enzo e Flora Sculco, si è fermato al 25,3%. Determinanti, dunque, potrebbero essere i voti dei grillini e di Forza Italia, che hanno lasciato libertà di coscienza ai propri elettori, seppur con l'eccezione del candidato sindaco per gli azzurri al primo turno, Argentieri Piuma, che invece si è clamorosamente schierato con la Barbieri. Significativa anche la sfida di Rossano, dove Stefano Mascaro, appoggiato dal PD e dagli uomini di Graziano, sfida da Ernesto Rapani di Fratelli d'Italia. Al primo turno, il distacco tra i due è stato marginale, 20,5% per Mascaro e 19,1% per Rapani. A Ciro Marina, invece, la partita si gioca fra due ex sindaci, Roberto Siciliani, 31,8% al primo turno, che il PD sosterrà al ballottaggio, e Nicodemo Parrilla, che ha ottenuto il 48%. Il PD, dopo la batosta subita a Cosenza, si gioca tantissimo in questo turno. Nuove sconfitte renderebbero assai misero il bottino per Magorno e Sochi, che hanno ceduto via via tutti i centri più importanti, ad eccezione di Reggio Calabria, dissipando il consenso solidissimo ottenuto appena un anno e mezzo fa alle regionali. Altre delusioni provocherebbero senza dubbio una profondissima riorganizzazione del partito, che Renzi ha già preannunciato. Riccardo Tripepi per la CNews24 E a poche ore dal ballottaggio l'ex candidato a sindaco di Rossano, Stasi, ha presentato un esposto in procura per denunciare anomalie nelle operazioni di scrutinio. I voti sono stati comprati, ha accusato Stasi, dicendosi pronto a fare ricorso al TAR. E andiamo avanti con la cronaca. Una persona che la polizia avrebbe già identificato ha sparato alcuni colpi di pistola contro un ex consigliere comunale di Cosenza, Roberto Sacco, che è rimasto illeso. Sacco, nel momento in cui si è verificato l'episodio, era in auto insieme al figlio. L'uomo subito dopo si è dato alla fuga dalle indagini, è emerso che il movente dell'episodio non sarebbe politico, ma da collegare a questioni personali. Sull'episodio indaga la squadra mobile. Essorsione aggravata dalle modalità mafiose. Questa è l'accusa di cui dovrà rispondere invece il neosindaco di Badolato, Gerardo Mannello, in concorso con Vincenzo Gallelli, ritenuto elemento di spicco della cosca Gallace ed altre tre persone. Al centro dell'indagine ci sono le presunte richieste estorsive subite da una società modenese che ha realizzato il porto di Badolato. E voltiamo pagina. Sarà rimpatriata domani la salma del giovane immigrato del mali rimasto ucciso nella tendopoli di San Ferdinando. A farsi carico delle spese dopo l'appello lanciato dal leader del Movimento dei Diritti Civili, Franco Corbelli, sarà il Comune di San Ferdinando. Il Comune di San Ferdinando è pronto a far rimpatriare e seppellire nel suo paese, come volevano i suoi familiari e come ha più volte chiesto diritti civili, il giovane immigrato del mali, Sekhin Traor, rimasto ucciso nella tendopoli di San Ferdinando. Lo annuncia il leader del Movimento Franco Corbelli. Il Comune aspetta soltanto l'autorizzazione dei familiari del giovane immigrante per avviare le procedure necessarie al trasporto della salma, che dopo l'autopsia continua a rimanere nell'ospedale di Germaneto. Corbelli aveva dato la disponibilità a contribuire alle spese, così come in questi anni, Diritti Civili ha fatto per altri casi di immigrati morti tragicamente, per fare rimpatriare la salma del giovane migrante, che si era invece pensato di seppellire nel cimitero di San Ferdinando, per motivi economici e per l'impossibilità da parte del Comune del Regino di fare fronte anche alle spese per il trasporto aereo della bara. Gli appelli del leader del Movimento di Diritti Civili evidentemente non sono caduti nel vuoto, rendendo possibile il rimpatrio della salma del ragazzo, le cui spese saranno affrontate dal Comune di San Ferdinando. Da Reggio Calabria per l'AC News 24. E la tendopoli di San Ferdinando, trasformata ormai in un ghetto, sarà presto smantellata. Al suo posto sorgerà una nuova struttura. È quanto prevede il piano operativo discusso in Prefettura a Reggio Calabria. La tendopoli di San Ferdinando, trasformata in un ghetto, sarà smantellata. Al suo posto sorgerà una nuova struttura di accoglienza per i lavoratori stagionali. È l'esito di un incontro in Prefettura volto a migliorare le condizioni di vivibilità degli immigrati nella piana di Gioia Tauro. Nel corso della riunione, presieduta dal prefetto Claudio San Martino, è stata definita una serie di interventi volti alla realizzazione del nuovo sito, che sarà assegnato a un'associazione composta dalle stesse organizzazioni che operano nella tendopoli e alla quale aderiranno anche i migranti. Dal punto di vista logistico, si prevede che ogni sei tende, una sia destinata a zona di aggregazione. Nella tenda sociale sarà realizzata anche una cucina comune. Per la realizzazione degli interventi di accoglienza e assistenza a favore degli immigrati, il Ministero dell'Interno ha già assegnato al Comune di San Ferdinando un contributo di 450 mila euro. La strategia avviata dalla Prefettura a tutela dei diritti dei lavoratori immigrati comprende anche una continuazione di contrasto al caporalato. Dal mese di novembre ad oggi sono 718 le aziende controllate, elevate 139 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 897.627 euro. Prezioso strumento in tal senso è costituito dal protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sottoscritto lo scorso 27 maggio dai ministri dell'Interno delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali. Il protocollo ha come obiettivo principale quello di rafforzare gli interventi a tutela dei lavoratori stranieri stagionali reprimendo una volta per tutte i fenomeni di illegalità. Da Reggio Calabria per la Cinews 24. E voltiamo pagina, parliamo di ambiente. Anche quest'anno il Ministero della Salute ha pubblicato i dati sulla balneabilità delle acque ed è un vero e proprio bollettino da guerra la parte che riguarda la Calabria. Di vieti di balneazione si registrano in quasi tutte le province. Le aree più critiche sono nel Cosentino e a Reggio, ma male va anche la zona del Catanzarese e del Vibonese. Tutto ciò nonostante la Regione Calabria abbia stanziato ben 6 milioni e mezzo di euro per la depurazione. Con i suoi 800 chilometri di costa e di suoi paesaggi mozzafiato, la Calabria potrebbe diventare una terra molto ricca. Eppure l'industria del turismo non riesce a decollare. Tra le criticità che ogni anno vengono riscontrate c'è la questione della balneabilità strettamente correlata alla depurazione. Un vero e proprio bollettino di guerra in Calabria. I dati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute, che individua aree critiche soprattutto nei tratti costieri del Regino e dell'Alto Cosentino, in particolare nelle aree adiacenti alle foci dei fiumi. I parametri al solito sono legati agli indici microbiologici, escherichiacoli ed enterococchi intestinali. Per quanto riguarda il monitoraggio della nostra Regione sono emerse delle criticità soprattutto nel tratto tirrenico della provincia di Cosenza, Paola, Fuscaldo, Belvedere Marittimo e in quello di Reggio Calabria. In particolare nel tratto che interessa il lungomare della città dello Stretto, il divieto di balneazione è presente ormai da diversi anni. La maggior parte delle zone interessate presentano divieti di balneazione per motivi di inquinamento e soltanto un numero esiguo per motivi di altra natura. Il problema della balneabilità in alcune zone è collegato anche al malfunzionamento dei depuratori, che non permettono sempre una completa rimozione dei contaminati dalle acque reflue. Quindi acque ancora cariche di liquami si riversano nei torrenti più vicini e di conseguenza sfociano nei nostri mari. Nel Catanzarese sono due i tratti off-limits, entrambi alla foce dei fiumi. Nel Vibonese divieto di balneabilità a 300 metri dal torrente Sant'Anna. Non va meglio a Briatico, nei pressi della Rocchetta, acque scarse e anche a Nicotera, a 200 metri dal fiume Mesima. Eppure per porre rimedio al problema la regione ha stanziato 6 milioni e mezzo di euro che sarebbero dovuti servire per il riefficientamento dei depuratori calabresi. Un intervento che avrebbe dovuto garantire un'estate a prova di turismo, ma visti i divieti sarà per il prossimo anno. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. E rimaniamo in argomento, parliamo di agenzie ambientali. Quelle del meridione sarebbero molto distanti in termini di performance da quelle del nord, ma tra quelle del sud la peggiore è quella calabrese, l'ARPACAL. A dirlo è il direttore nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani in Calabria per rappresentare il rapporto sulle ecomafie. Sentiamo. Le ARPACAL sono decisamente indietro in termini quantitativi e qualitativi di monitoraggi rispetto a quelle del nord, ma tra quelle del meridione è sicuramente l'ARPACAL quella che ha avuto più difficoltà e questo grave svantaggio dei cittadini. A dirlo è Stefano Ciafani, direttore nazionale di Lega Ambiente, intervenuto al Treme Festival per parlare di ecomafie, dedicando poi un passaggio del suo intervento alla appena approvata legge sulle agenzie ambientali. Un risultato importante anche rispetto all'attività dell'ARPACAL, l'Agenzia Regione di Produzione Ambiente della Regione Calabria, che tra le ARPA del sud Italia è una di quelle che è stata più in difficoltà per garantire i monitoraggi pubblici. Grazie a questa legge sarà possibile ridurre la distanza che c'è stata negli ultimi vent'anni tra le agenzie regionali di produzione ambiente del nord Italia, che hanno garantito una qualità dei controlli assolutamente elevata, rispetto alle ARPA del sud Italia che hanno avuto sempre grandi difficoltà perché non sono riuscite mai a garantire le stesse prestazioni. E questo è stato un problema anche per i cittadini. Tiziana Bagnato per la CNews24. Ancora Ambiente mira a incrementare la raccolta differenziata anche negli stabilimenti balneari, la manifestazione Ricicla Estate che ogni anno fa tappe in Calabria. Presentata durante la stessa edizione dell'Altrame Festival, la campagna sa di dovere incidere su un territorio che fino ad ora ha risposto poco, ma sta migliorando. Si partirà il 6 luglio da Cetraro, ma le tappe calabresi saranno in tutto 32 per 16 comuni. Anche quest'anno torna la campagna Ricicla Estate. La manifestazione, promossa da Lega Ambiente in collaborazione con CONAI, Consorzo Nazionale Imballaggi, e con il contributo di Alesco, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della provincia di Cosenza, è stata presentata durante il Trame Festival e mira a posizionare negli stabilimenti balneari aderenti pidoncini per depositare i rifiuti da imballaggio in modo differenziato, dandogli una nuova vita. L'obiettivo, insomma, è incentivare la differenziata anche nei Lidi, in una regione in cui questa stenta a prendere piede, come spiega il responsabile progetti territoriali del CONAI, Fabio Costarella. Ci sono alcuni comuni, tipo Cosenza, che ormai è una realtà che da due anni ha delle percentuali raccolte differenziate al di là degli obiettivi di legge. Quest'anno la novità è il comune di Catanzaro e Gimigliano che si sono uniti in questa gestione associata dei servizi raccolta differenziata e hanno superato anche lì nei quartieri dove attiva la raccolta porta a porta più del 65% di raccolta differenziata. Il 21 giugno parte la zona Lido, che è la penultima zona dove stiamo facendo lo start-up. Quindi ci sono dei segnali positivi. Tiziana Bagnato per la CNews24. La truppo degli intoccabili nei luoghi di Matteo Messina Denaro. L'ultima puntata della prima serie del docu-reality sull'Andrangheta prodotto dalla C andrà in onda domani sera, in diretta, a partire dalle 21. In studio e in collegamento con Klaus Davi, esperti e commentatori d'eccezione. Vediamo. Un incontro ravvicinato con Cosa Nostra per l'ultima puntata della prima stagione degli intoccabili. Il programma, prodotto dalla C e condotto dal mass-mediologo Klaus Davi, in onda ogni lunedì in prima serata. La truppe si è recata nei luoghi che hanno visto consolidarsi il potere del boss di Castelvetrano, eternamente in fuga, Matteo Messina Denaro. Ma non solo. Si è addentrata nel paese simbolo del potere mafioso, ex feudo del boss Totorina, a Corleone, dove nel corso dei decenni sono stati decisi e messi in atto centinaia di omicidi e atti di fuoco. Ma la puntata si occuperà anche dei rapporti tra la mafia siciliana e l'Andrangheta calabrese, ripartendo dall'affermazione rilasciata proprio al microfono di Klaus Davi, dal magistrato della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, sulla possibilità che la latitanza di Matteo Messina Denaro possa beneficiare anche della protezione di affiliati all'Andrangheta. Un'ipotesi che verrà commentata con gli ospiti in studio e in collegamento. Appuntamento domani sera alle 21 in diretta sulla CI per la quinta e ultima puntata. Sicilia-Calabria, le relazioni pericolose. Davibo Valencia per la CNews24. Grazie ad un accordo con la Telecom, il comune di Mendicino, centro alle porte di Cosenza, ha attivato tre aree in cui i cittadini possono connettersi liberamente a internet. I tre punti di accesso al Wi-Fi sono stati inaugurati nel corso di una conferenza stampa itinerante del sindaco Antonio Palermo che abbiamo intervistato. Abbiamo voluto fare un passo in avanti in più anche su questo terreno dell'accessibilità per tutti ad internet che oggi è essenzialmente uno degli strumenti più importanti della conoscenza che esiste. Lo abbiamo fatto garantendo in tre piazze principali del nostro paese la possibilità a tutti di connettersi gratuitamente attraverso delle reti Wi-Fi che abbiamo realizzato grazie a una collaborazione con Telecom Italia. Partendo da tre piazze il servizio verrà esteso? Per il momento l'abbiamo realizzato in queste tre piazze perché in queste tre piazze abbiamo una connettività comunale nel senso che in una c'è la sede del municipio, nelle altre due ci sono le sedi delle scuole e quindi avevamo bisogno per realizzare la Wi-Fi delle connessioni già esistenti. Se riusciremo con Telecom utilizzando le tecnologie a estenderla da altre parti del territorio lo faremo tranquillamente. Da Cosenza per la CNews 24 Prestigioso riconoscimento per il liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria che diventerà partner dell'Università di Cambridge. Per la formazione internazionale degli studenti reggini i lettori di madrelingua affiancheranno i docenti durante le lezioni di latino e di matematica. Welcome to Reggio Calabria il più antico liceo classico della città diventa internazionale la prestigiosa Università di Cambridge riconosce lo storico istituto reggino lo status di affiliazione nell'ambito del programma English as a Second Language gli alunni avranno la possibilità di ascoltare le lezioni di latino e matematica direttamente in lingua inglese un lettore madrelingua farà da spalla al docente ordinario per insegnare la lezione direttamente in lingua straniera come se si frequentasse un'università o una scuola anglosassone è una grande soddisfazione ha affermato il dirigente scolastico Maria Rosaria Rao perché prosegue il nostro percorso di internazionalizzazione degli studi oltre al riconoscimento da parte dell'Università di Cambridge grazie al dialogo con il Consiglio d'Europa la nostra scuola a settembre organizzerà un seminario internazionale di formazione al quale prenderanno parte addetti culturali di decine di paesi del mondo far parte dell'Università di Cambridge ha proseguito la dirigente scolastica significa essere un centro di eccellenza nel campo dell'istruzione a livello internazionale e ne siamo davvero orgogliosi Francesco Creazzo per la Cineus 24 e apriamo la pagina dello sport con il beach soccer conto alla rovescia per la prima tappa del campionato di Serie A riflettori puntati su Catanzaro la squadra del presidente Giuseppe Procopio inserita nel girone B partirà la nuova avventura contro il Barletta tutto pronto per la tredicesima edizione di beach soccer Serie A maschile in scena dal 17 giugno al 7 agosto sei tappe una in cui giocheranno tutte le squadre due solo per quelle del sud e altrettante per quelle del nord e tra le protagoniste del sud il Catanzaro che affronterà a Viareggio prima tappa della competizione il Barletta, il Villa Franca e il Catania squadre ostiche ma alla portata dei calabresi il tecnico giallorosso Francesco Procopio non lascerà nulla al caso preparando la squadra soprattutto sotto l'aspetto tattico ma anche in questa edizione così come dal 2006 al 2015 la Calabria sarà protagonista assoluta dal 22 al 24 luglio il Lido Santa Fe di Catanzaro sarà infatti la tappa per la fase finale che deciderà le sorti del girone sud motivo in più per la squadra di coach Francesco Procopio per dare il massimo già nelle prime gare per conquistare un posto utile e giocarsi il titolo 2016 a Riccione dal 4 al 7 agosto con la sfida della Supercoppa e l'assegnazione dello Scudetto da Vibo Valencia per la CNews24 E ora il calcio quella che inizierà domani sarà una settimana importante per la Lega Pro all'orizzonte il primo step obbligatorio per non rischiare penalizzazioni La prossima sarà una settimana decisiva in Lega Pro La nuova Serie C che attende di capire quante squadre manchino all'appello per ripristinare il format a 60 squadre affronterà il primo step verso l'anno che verrà Molto del futuro della terza serie nazionale targata 2016-2017 si capirà nella tarda serata di sabato prossimo quando suonerà il gong sulla prima scadenza dell'anno Il 24 giugno coincide infatti con un termine fondamentale nell'iter burocratico che conduce la domanda di iscrizione al prossimo campionato il cui deposito è previsto invece giovedì 30 giugno I club dovranno far fronte a un vero e proprio salasso per attenersi ai criteri economico-finanziari previsti per il rilascio delle licenze nazionali Nello specifico le società aventi diritto dovranno dimostrare di aver assolto a tutti i pagamenti degli emolumenti dei tesserati con tanto di dichiarazione ufficiale depositata alla Covizoc Un passaggio obbligatorio per non incorrere indiferimenti alla Procura federale non rischiare quindi di partire subito con un punto di penalizzazione Poi corsa fino al 30 giugno quando scatterà l'ultimo giorno utile per iscriversi al prossimo torneo data che verosimilmente coinciderà con quella legata alle domande di ripescaggio ma su questo ancora non c'è l'ufficialità Alessio Bonpasso per la Scenius 24 E intanto Catanzaro e Cosenza sfidano le grandi del torneo per ingaggiare o trattenere i migliori giocatori di Serie C il punto sulle trattative in questo servizio E' il primo vero weekend di calciomercato ormai praticamente tutti i club sono al lavoro in Calabria le notizie ufficiali passano soprattutto da Catanzaro dove nelle ultime ore è sbarcato ufficialmente Giuseppe Prestia palermitano classe 93 cresciuto nelle giovanili della società rosa nero Prestia ha militato in Serie B tra le fila dell'Ascoli e del Crotone in Serie A nel Parma e nel massimo campionato rumeno con la maglia del Petrolul Ploiesti E' un difensore a conferma del progetto gelorosso di costruire la nuova squadra partendo dal reparto arretrato dopo di Bari e Sabato Prestia è infatti il terzo uomo di difesa incastonato nel mosaico targato 2016-2017 il prossimo obiettivo è l'ingaggio del portiere in questo senso buone notizie arrivano da Cesena dove nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera al rinnovo del prestito di Matteo Grandi uno dei pochi a salvarsi nell'ultima stagione sui tre colli soffia forte il vento dei rinnovi anche a Cosenza dove il club rosso-blu ha già ufficializzato la conferma di Criaco e tra qualche ora farà lo stesso percorsi i gioielli silani fanno gol a molti altri club Ciancio piace alla salernitana a Righini al Cittadella ma potrebbe ritornare a casa tra le braccia di un ex Cosenza Mimo Toscano da poche settimane nuovo allenatore Righini è legato da altri due anni di contratto Alessio Buonpasso per la CNews24 L'informazione della C termina qui grazie per averci seguito e buona domenica Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie Dal 30 maggio le edizioni della CNews24 cambiano orale alle 14 alle 19.30 e alle 24 i calabresi sono informati di un'attenzione che fa notizie per averci seguito per averci seguito